Torna la quinta edizione della manifestazione sportiva Corri nel Parco, in programma domenica 22 marzo organizzata dall'Associazione Atletica Gran Sasso. La manifestazione quest'anno sarà aperta anche agli adulti con una gara di 10 km. Nel segno della continuità e della tradizione, l'unica novità è che lo scorso anno per problemi al percorso del Parco Fluviale non abbiamo potuto organizzare la gara per i grandi di 10 km, invece quest'anno grazie appunto all'agibilità del percorso verrà reintrodotta e la novità è semplicemente che è dedicata ai bambini, quindi delle scuole di Teramo, ne saranno più di 300 a partecipare e è dedicata anche ai grandi che faranno la gara di 10 km. Una manifestazione questa regionale? Sì, è una manifestazione regionale, fa parte del circuito Corri l'Abruzzo, quindi avremo una partecipazione anche degli atleti dell'Abruzzo e anche delle marche, diciamo così, delle città vicine all'Abruzzo. È il quinto anno che noi organizziamo questa manifestazione, serve anche per valorizzare il nostro bellissimo Parco Fluviale. Quest'anno abbiamo anche un po' avuto, diciamo così, un po' di paura perché purtroppo tanti alberi sono caduti lungo il percorso e approfitto per ringraziare i cittadini che abitano nella zona del Parco Fluviale perché i tanti cittadini che si sono adoperati per pulire il percorso e anche ringraziare insomma il Comune che si è adoperato anche con ditte specializzate per accelerare il ripristino di questo anello verde che insomma è veramente molto frequentato da tanti cittadini. Corri nel Parco anticipa la Maratonina Pretuziana ad aprile a Teramo quando arriverà anche la campionessa Sara Simeoni. Questa gara prepara un po' alla Maratonina Pretuziana che è un classico appuntamento del primo maggio. Poi noi come Atletica Gran Sasso questa è la prima iniziativa che organizziamo durante l'anno. Domenica prossima il 29 saremo in piazza anche a Piazza Martiri con i nostri amici dell'associazione dell'autismo e faremo uno spettacolo con i piccoli diciamo insieme a questa associazione siamo onorati di dare questa collaborazione. Ad aprile avremo anche un evento al campo scuola verrà probabilmente Sara Simeoni la campionessa olimpica di salto in alto quindi poi ci sarà anche lì un evento, una presentazione e poi sarà la Maratonina Pretuziana facciamo la nostra attività e siamo sempre nonostante le difficoltà economiche sempre in prima linea per far fare lo sport ai ragazzi.